Oggi è la festa di tutti i santi ed è l'occasione per affidarci a tutti questi amici di Dio, cioè coloro che hanno creduto in una vita come vocazione e missione. Mi trovo all'interno della Cappella del Sacro Cuore che custodisce un tondo che copia del Rubens. Si intitola Cristo tra i quattro penitenti e rappresenta Gesù che si fida dei peccatori per raggiungere gli altri peccatori. Trovate Maria di Magda, la prima testimone del Risorto, a cui Gesù liberò, ecco, liberò dai demoni e poi il buon ladrone, il re Davide e infine Pietro che lo ha rinegato, persone che hanno sbagliato nella loro vita ma che meritano tutta la fiducia, ricevono tutta la fiducia di Gesù. È un'immagine bellissima del festa di oggi perché tutti siamo chiamati alla santità, tutti riceviamo questa fiducia di Dio e nel battesimo un germe di santità, di vita nuova che deve esprimersi. Si isti et ille, cur non ego, diceva Sant'Agostino, se questi e quelle ma perché io non potrei? Che bello se ognuno di noi credesse in questa fiducia di Dio ricominciasse a far fiorire i talenti. Abbiamo bisogno di uomini così, santi perciò umani, che sanno investire le proprie energie e le proprie risorse sugli altri, cercando la felicità degli altri, la gioia degli altri, quindi operatori di verità, di giustizia e di pace. Che questa vocazione che appartiene ad ogni uomo di buona volontà possa portare frutti in questa giornata e possa rimotivarci ciascuno nel riprendere i sentieri della vita. Buona festa a tutti!